In pista c'è anche Tony Alanzetta. Ieri sera ha inaugurato il comitato elettorale, ha illustrato le linee guida del suo programma, le cose che farà se sarà sindaco e quelle che non farà. Tre potrebbero essere le liste elettorali al suo fianco, diverse le linee programmatiche delineate dalla macchina amministrativa con uffici comunali trasparenti alla gestione dei rifiuti senza dimenticare la mobilità urbana, i parcheggi, il piano urbanistico comunale, i prefabbricati di Montevescovado, le politiche sociali, le società partecipate, le attività produttive e le aree industriali. All'appello per i candidati a sindaco ora manca soltanto il centrodestra. Le attenzioni sono tutte rivolte a Pasquale Dacunzi, indicato da Forza Italia e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Quasi certamente il prossimo 18 aprile l'imprenditore scioglierà la riserva. Nel caso rinunciassi alla candidatura per il centrodestra sarebbe, parola del commissario forzista Antonio Roscia, un disastro. L'alternativa non sarà una coalizione. Forza Italia infatti opterebbe per un candidato interno al partito, cosa che sicuramente farà anche Fratelli d'Italia. Intanto ora c'è il problema dei candidati al Consiglio Comunale. c'è una palese difficoltà nel comporre le liste, soprattutto nell'individuare consigliere candidate donne. Con buona pace delle quota rosa.